Per la prima volta nella storia amministrativa ed istituzionale dell'Italia e dell'Europa si vara una norma che insedia la zona franca fiscale e contributiva. Noi conoscevamo le zone franche, fiscali, per esempio in Francia, timidi tentativi anche in Italia, ma mai la zona franca fiscale e contributiva per aiutare le imprese a rinascere economicamente. Quali imprese? Le imprese operanti nei comuni del cratere. Quale cratere? Il cratere che è stato identificato con provvedimento di Palazzo Chigi fatto proprio dal Parlamento in relazione ai terremoti del 2016 e 2017. È un provvedimento che azzera gli oneri fiscali e gli oneri contributivi per tre anni, due anni più uno, per quanto riguarda le imprese che investono nel rettangolo di questa Italia appenninica che riguarda Abruzzo, Umbria, Marche e anche Lazio. Accanto a questa norma che io qualifico rivoluzionaria, c'è anche un'altra norma che sostituisce la capacità fiscale coincidente con gli immobili che danno luogo al contributo della Tari per i bilanci comunali. Poiché c'è stata demolizione di questi immobili a causa del terremoto, ci sarà un sostitutivo contributivo da parte del Governo. E si continuerà nella semplificazione delle procedure. Io proporrò di qui a qualche settimana che la cabina di coordinamento dei quattro presenti Regione e anche di Errani e di Palazzo Chigi varino anche una misura graduata per aiutare i comuni fuori cratere, in zona sismica 1, rischio 1, per quanto concerne non solo la ricostruzione ma anche un aiuto alla ripresa delle attività economiche. Così come insisteremo per fare in modo che i comuni danneggiati da terremoto e da maltempo, 2016-2017, abbiano la sospensione degli oneri nei confronti di cassa, depositi e prestiti per un anno.